Beh, che dire, prima la mia vita era completamente un disastro, ad esempio i rapporti con la mia famiglia erano disastrosi, i rapporti con il denaro proprio non ne parliamo, avevo più di 10.000 euro di debito quando ho iniziato a fare i corsi e a livello professionale cercavo sempre un po' di realizzarmi, infatti il mio sogno era di diventare un coach e di essere un formatore e tutto quanto. E da quando appunto ho iniziato a frequentare i corsi di Anna Maria e Giuse, la mia vita veramente si è stravolta. Stravolta in positivo perché ad esempio dai 10.000 euro di debito oggi sono passato a gestire la mia attività e faccio il lavoro che amo seguendo la mia missione dell'anno.